Penso che la cosa più bella che ho visto in questi giorni è la crescita dei più giovani, no? Sembrano delle spugne che stanno prendendo tutto da tutti, anche da un giorno all'altro si vede lo sviluppo di questi ragazzi e si sente, si ascolta, quasi posso toccare questa cosa. Penso che questa è la cosa più bella, si vede che abbiamo potuto dare qualcosa loro. Grazie.